un trapano bosh abbastanza discreto seppur vecchio questo preciso modello non è più in produzione e quindi lo hanno buttato via ma io sono sicuro che questo coso in qualche modo funziona con il suo caricabatterie che si accende ma la batteria non carica la batteria non carica perché non carica vedremo ora noi abbiamo misurato qui io ho misurato perché noi io ho misurato qua e ottengo tensioni quindi il caricabatterie funziona ottengo con una mano sola ottengo cose insomma questo coso funziona la batteria non carica adesso la smontiamo e vediamo cosa succede quattro viti una era bloccata da un fermo di plastica che ho divelto ma sono quattro viti più o meno normali hanno una forma strana sembrano torx con il taglio quindi diciamo che sono stati intelligenti alla bosh il pacco batterie si apre e rivela quattro belle batterie a litio rivela anche degli accessori di plastica un diodo che verificheremo e che dire ma guardate che bello viene fuori tutto il pacco batterie bene questo questo sembra riparabile le batterie sono collegate in serie tra di loro e boh c'è una resistenza molto piccola qui c'è questo coso di plastica va bene adesso proviamo a fare qualche misura beh io sono stato un coglione ieri perché ho buttato decine di batterie di portatili piene di questi moduli 16 8 e 50 e già e già ne potevo conservare qualcuna forse qualcuna ce l'ho vedremo fatto questo sta che questa batteria non segna niente non misura nulla questa mi dà fondo scala perché forse è l'unica che funziona mi dà 4 volt e 15 questa mi segna il niente 0,7 volte questa mi segna una mazza quindi abbiamo una due e tre batterie fottute ma guarda che strano si tratterebbe di sostituire questa questa e questa perché non funzionano però si tratterebbe quindi di saldare sulle batterie perché io non ho modo di fare le elettrosaldature si tratterebbe di trovare i moduli trovare le singole batterie le celle si tratterebbe insomma di rompersi il cazzo quando alla fine questo questa batteria costa circa una trentina di euro e il trapano almeno il modello recente di questo stesso tipo di trapano costa sui 130 euro quindi vale la pena voglio dire di prendere una batteria nuova e cambiarla oppure sistemare questa giusto per divertimento per farci esplodere in faccia una cella al litio cosa sempre divertente per cui non lo so adesso vedo cosa ho in giro e nel caso proviamo la riparazione ed ecco qua batteria di portatile sconosciuto con dentro celle al litio 3 proprio quelle che ci servono metodo stravinsky per l'apertura di un pacco batterie ecco fatto visto in un attimo si è aperto troviamo qui all'interno tre celle con la circuiteria vediamo se ci esplode tutto in faccia ecco qua ecco qua io come al solito le inquadrature del cazzo è ma si facciamo così che facciamo prima e questo è il sensore e così abbiamo adesso beh queste due volendo sono già collegati questa però ma questa anche quindi guardate qua ce le troviamo già più o meno connesse questo sensore non ci servirà però ce le troviamo già connesse tre tre in serie dovrei spostare questa in coda e quindi recuperarne sono una diciamo che sono identiche ora questo sembra acciaio però ci hanno saldato sopra questo filo quindi secondo me si può saldare tra qui e qui e poi qua ottengo il ottengo il negativo quindi negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo negativo positivo diciamo che ci siamo questo filo non serve a niente e quindi lo estirpo vediamo se riesco a fare qualcosa con questo saldatore a cui manca l'acqua nella spugnetta meraviglioso saldatore cinese che io ho acceso ovviamente senza ficcare la spina perché? perché sono un coglione ok come prima cosa vediamo se questo filo si dissalda e questo filo si dissalda quindi ora vediamo se riesco a stagnare questo magari con un po' di questa pasta salda perfetto perfetto quindi si stagna perfettamente un po' di stagno qua mi sa che io vado così vado a chiudere questo vado a chiudere questo si una perfetta saldatura del cazzo orrendo orrendo blob di stagno orrendo ma direi che il pacco batterie è pronto ora vediamo se riesco a collegarlo a questo oggetto quindi va girato così questa mi sa che la possiamo togliere chissà perché hanno messo un pezzo di merda sulla saldatura ecco qua abbiamo culo che questi si saldano abbiamo veramente un gran culo ora io ho questo lo devo collegare al filo rosso qua quindi questa gliela ficco con inaudita violenza dentro così questo glielo ficco di sotto ed ecco che con un po' di culo forse riesco a saldare questo pezzo di filo qui vediamo se ci riesco allora ho spellato il filo rosso come prima cosa gli metto un po' di questa pasta salda sulla pasta salda ci sono due scuole di pensiero chi dice che non bisogna mai usarla io me ne fotto e la uso perché aiuta molto a fare le stagnature perché fa assorbire lo stagno sul rame in una maniera impressionante come avete appena visto quindi ora io questo lo ficco qua scottandomi e se riesco a piegarlo magari lo piego prima ecco così questo pacco esploderà mi esploderà in faccia io lo so io lo so già che mi scoppierà in faccia ma purtroppo non c'è niente da fare poi faccio così questo glielo giro qua e poi tenendolo in qualche modo magari con questa matita non mi piace è un po' vicino è un po' troppo vicino a allora vediamo ecco forse così ecco ora è un po' più distante un po' più distante se stesse giù questo pezzo di merda forse riuscirei a saldarlo bene perfetto un po' di stagno preso così a cazzo e vai ed ecco saldatura fatta attenzione ho saldato il polo positivo sulla parte di sotto potrei infilare un pezzetto di plastica isolante che prenderò da questo foglio di plastica del retro di un televisore lcd prenderò una striscia di plastica con cui farò delle parti isolanti con cui isolerò a cazzo in modo perlomeno da evitare ecco questo glielo metto lì così ecco fatto isolato ora questo dovrebbe arrivarmi qua e c'è un porco stava staccando l'altro ma comunque ci arriva diciamo che col porco ci arriva con l'aiuto del porco che tutti noi sappiamo chi è io arrivo a saldarlo qua quindi facciamo così questo lo taglio ecco così io potrò saldarmi qua ora pasta salda come al solito applichiamo qui e applichiamo su questo cazzo di filo che è tutto rovinato ma io me ne fotto e quindi generosa palla di stagno bene stagnatura e botta di saldatura già fatta tutto pronto tutto finito diciamo che il pacco batteria in teoria è a posto questo è il sensore di temperatura glielo appoggio qua un po' di nastro carta per bloccare allora intanto vediamo se riesco a ficcare il sensore di temperatura ecco fatto poi un po' di nastro carta per bloccare il tutto che non blocca assolutamente un cazzo come potete vedere diciamo che ci vorrebbe un nastro un po' più un po' più però il nostro pacco batterie adesso è montato vediamo questo in teoria va qui oh entra perfettamente c'è un sacco di spazio speriamo che si chiuda questo si fa scorrere in qualche cazzo di modo vediamo se riesco a rificare sta stronzata ecco l'ho messo questo lo appoggio nel pacco batterie poi magari ci metto un biadesivo o qualcosa un dio adesivo e questo mi pare che andasse qua così va bene chiudiamo vediamo se si chiude ovviamente ovviamente non si chiude perché non si chiude perché il pacco batterie è troppo largo di qua quindi bisogna schiacciare questa parte io non so come eppure lo spazio c'è là questo questo va messo qui questo va messo qui ora provo a ficcarglielo al contrario quindi così ecco sì è un problema di saldature che saldature che fanno bestemmiare ripeto questo lo metto qui poi questo glielo ficco qui così che non entra ok va oh diciamo che è entrato diciamo che il pacco batteria si chiude gli metto giusto due viti per tenerlo lì tanto so già che forse anche le batterie che ho sostituito sono guaste avvitare con inaudita violenza ricordatevelo sempre la violenza aiuta sempre ecco qua con violenza ora stacco il saldatore spengo pulisco la punta la ripulisco bene la asciugo la metto nel porta saldatore arriva il carica batteria col suo led collego il carica batteria e vediamo che cazzo succede attenzione attenzione sta caricando è la vittoria la vittoria abbiamo conseguito una grandissima vittoria il pacco batteria in carica a questo punto mi mangio un bel panino e vediamo quanto ci mette a caricare questa batteria alla fine lui ha caricato ma lui non funziona e ho scoperto che anche questa batteria è difettosa perché ora queste tre sono perfettamente cariche ma questa no quindi niente mi servirà un'altra batteria e così è stato ho misurato questa che era collegata qua in fondo ed è morta morta anche lei quindi mi serve una quarta batteria che non ho vedremo cosa posso trovare